carissimi amici e amiche con grande gioia e anche con una certa emozione comincia questo nuovo ciclo di catechesi vertente sul catechismo romano o catechismo tridentino non so quanti di voi ne hanno mai sentito parlare la materia sarà come vedremo molto molto vasta è un testo veramente molto bello anche perché già da questa sera si comprenderà proprio lo stile con cui è scritto stile che certamente che chiaramente intende evidenziare al massimo quell'esigenza di chiarezza e rigore dottrinale che caratterizzò proprio l'evento stesso del concilio tridentino che penso come tutti ricorderemo dalla storia qualcuno l'ha chiamata la contro riforma e ricordo quando si studiava a scuola dice riforma cattolica o contro riforma c'erano tutte quante le diatribe storiografiche storiografiche sulla lettura di questo evento insomma ando avanti per 18 anni il concilio di catechismo maggiore di san pio decimo che è molto più esteso di quello che ho trattato nel ciclo di catechesi dove c'è la sintesi della dottrina cristiana quello che si usava come testo base anche per la catechesi dei ragazzi di un tempo no ecco c'è il catechismo di san pio decimo c'è il catechismo di san pio quinto quindi san pio quinto di venerabilissima memoria è un grande dominicano della battaglia di levanto quindi appunto il papa della riforma e dell'edizione diciamo definitiva del messale che è stato in vigore per interrottamente per 400 anni fino alla leggerissima rimodulazione che di di che di esso fu fatta nel 62 ma veramente un pochino ma sostanzialmente era rimasto sempre lo stesso e vedremo che anche la struttura diciamo così catechetica è molto bella a mio modo si sia ovviamente si presenta come un catechismo quindi anche qui sarà la parte prima che riguarda la fede poi la parte seconda che è come sempre riguarda i sacramenti e poi la parte terza che riguarda la vita morale è particolare è bello secondo me molto molto bello sicuramente qualcuno potrebbe storcere un po la bocca accusandolo di di essere retrogrado io non credo ecco al a chi avrà la pazienza questo sarà un ciclo di catechesi che andrà avanti boh forse due anni forse tre perché nella versione digitale sono 197 pagine quindi meglio che non dilungo troppo l'introduzione così cominciamo un pochino a gustarci secondo me sarà molto bello come come viaggio e quindi con l'aiuto del signore e della beatissima e sempre vergine maria e oggi anche di san giovanni crisostro che il grande vescovo grande assertore dell'ortodossia cattolica per questo perseguitato non poco a suo tempo e nonché patrono di tutti quanti predicatori gli oratori quindi come dire io a volte mi sento un po ovviamente mutatis mutandis però la mia storia sacerdotale bello brutta che sia giusto sbagliata che sia stata questa c'è quel passo di dove san paolo dice a me il signor non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il vangelo facendo riferimento alla sua predicazione itinerante che è stata veramente impressionante io non sto facendo l'itinerante però nei primi anni di sacerdozio per la verità forse qualcuno lo ricorderà ho girato un pochino con vari posti d'italia quando ancora però questa attività diciamo così online era quasi inesistente o alle origini ecco proprio una serie di vicissitudini si è bloccata diciamo l'attività itinerante e però è cominciata questa forma del tutto singolare di predicazione itinerante che è quella che si svolge attraverso il web e che all'inizio stentava un po adesso va un po meglio nel senso che io invito a riflettere è un'opportunità credo questa unica io non so fino a quando esisteranno queste cose non so fino a quando nostro signore non farà qualche greatest reset come qualcuno ha detto e torniamo a girare con i cavalli se così fosse e me ne torno andare in chiesa con la lampada a petrolio come faceva il santo curato d'Arts pur non essendo non avendo nulla a che fare con il santo curato d'Arts ahimè e lo dico con dolore però fino a quando c'è è certamente una risorsa non indifferente perché permette di far arrivare una parola una predicazione ripeto bello brutta che sia questo anno spetta ovviamente a me giudicarlo il giudice primo è il signore poi secondariamente coloro che ne ne usufruiscono però capite comodamente a casa propria con la possibilità di risentire andare avanti andare indietro sì c'è qualcuno che segue la diretta ma chi non può seguire la diretta ma se seguire la diretta come dire è un bezzo se uno si vuole però questa tra un'ora sta online dopodiché uno lo può sentire dove come quando vuole tra una settimana tra un mese tra un anno quando gli pare al mio canale e li rimane e tra l'altro come voi ben sapete questa forma di predicazione impressionante perché io dico una cosa dopodiché voi capite che in continuazione questa cosa sta in giro senza che io la stia ripetendo e tra l'altro è cristallizzata così come l'ho detta cioè io non sarei capace di rifare una catechesi esattamente così come l'ho fatta no assolutamente potrei come dire certamente i contenuti sarebbero analoghi no però io mica io mica conosca a memoria tutte quante le parole che ho dette nella sequenza che ho detto no assolutamente cioè questa forma di comunicazione ogni tanto ci penso ricordando anche a al grande san massimiliano maria colb che fu colui che mi come spinse a intraprendere in questo viaggio quando ancora ero quasi un pioniere e ho cominciato queste cose nel 2009 credo o forse addirittura nel 2008 qualcosa sicuramente nel 2009 quando adesso siamo grazie a dio e siano tutti benvenuti una marea e molto attrezzati ma quei tempi no a quei tempi era proprio erano proprio gli albori molti avevano titubanze paure no facebook non era da molto che che girava insomma comunque stop allora il catechismo tridentino ha una prefazione vediamo se riusciamo con tutte queste chiacchiere introduttorie che ho fatte c'è il pericolo che non riusciamo a farla tutta questa sera comunque proviamo la prefazione sottotitolo è catechismo ad uso dei parroci teologi predicatori insegnanti di religione pubblicato dal papa san pio quinto per decreto del concilio di trento prefazione la prefazione consta di diversi punti io leggerò i punti sono nella mia versione scritti in grassetto e poi c'è lo sviluppo del punto primo punto l'uomo lasciato alle sole sue forze non è in grado di acquistare la vera sapienza e di trovare i mezzi sicuri per conseguire la beatitudine già il titolo è exciting si direbbe in inglese no la capacità dell'anime dell'intelligenza umana è tale che pur avendo questa potuto da se stessa investigare conoscere con molta fatica e diligenza non poche cose riguardante le verità divine tuttavia con il solo lume naturale non è mai arrivata a conoscere ad apprendere la maggior parte dei mezzi con cui si acquista la salvezza eterna scopo principale per cui l'uomo è stato creato e formato a immagine e somiglianza di dio poiché come insegna l'apostolo dalla creazione del mondo in poi le perfezioni invisibili di dio possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute come la sua eterna potenza e divinità invece il mistero tenuto nascosto fin dai secoli remoti e per tante generazioni ossia il mistero di cristo supera talmente l'intelligenza umana che se non fosse stato rivelato ai santi ai quali dio vuole mostrare le ricchezze della sua gloria in mezzo alle genti nessuno avrebbe potuto aspirare a tale sapienza con qualsiasi sforzo umano vedete qui ma viene subito posto il doppio piano della conoscibilità di dio e del suo mondo 400 anni prima no 300 si 300 e rotti anni prima di quello che avrebbe affermato il concilio vaticano primo come dogma di fede non impugnabile ossia la conoscibilità naturale di dio attraverso le sue perfezioni visibili questo si trova nella lettera romani si trova anche nel libro della sapienza qui è citato soltanto il testo di romani 1 20 primo però dice sì che posso arrivare a capire che un dio esiste c'erano arrivati anche i filosofi pagani c'era arrivato socrate c'era arrivato platone c'era arrivato aristotele e non solo loro c'è arrivato seneca per quanto riguarda roma però posso arrivare a conoscere qualche virtù qualche verità le virtù teologali le virtù scusate cardinali le avevano molto chiare anche alcuni filosofi tanto per fare un esempio ma il mistero di cristo i sacramenti una grande lucidità su quello che è la legge di dio non è possibile arrivarci senza una rivelazione divina e con questo andiamo al punto 2 l'origine dell'eccelso dono della fede poiché la fede nasce dall'ascoltare citazione implicita di un passo celebre di san paolo fides ex audituo la fede viene dall'ascoltare ecco perché così importante ascoltare è evidente la perenne necessità dell'opera del ministero di maestri autorizzati per conseguire la salvezza eterna i maestri ci servono la predicazione è un ministero fondamentale nella vita della chiesa ecco perché fu detto vedete come ascolteranno se non c'è chi predica lettera ai romani è questo è virgolettato e come possono predicare se non hanno la missione perciò fin dall'origine del mondo dio che è pieno di clemenza e di benignità non ha mai mancato di provvedere sui letti ma più volte e in molte maniere per mezzo dei profeti parlo agli antichi padri mostrando loro secondo l'opportunità dei tempi la via sicura e retta per le benitudini celeste ho attenzione ai figli miei questo valeva ieri e vale anche oggi e varrà sempre ci sono molti fedeli che lamentano non è che ci hanno le traveggole o ci hanno le visioni che stiamo in un tempo dove non sempre non è sempre scontato trovare predicatori anche autorizzati chi parla di gente che ha avuto una missione canonica sapete un sacerdote ha proprio il mandato dalla chiesa di predicare io lo devo fare è un mio dovere guai a me se non predicarsi il vangelo ma guai a me che mi fa cuore il nostro signore perché questo è uno dei doveri gravi inerente proprio al ministero stesso sacerdotale sacerdote significa tre cose sacerdocens sacerdans e sacerdux cioè colui che insegna le cose sacre colui che amministra che dà le cose sacre docens significa colui che insegna insegna il sacro dance che dà il sacro dux condottiero sacro in che senso nel senso che se qualcuno ti affida la vita e ti chiede di fare il direttore spirituale tu devi condurlo al signore se un vescovo ti affida una parrocchia devi condurre i tuoi fedeli all'incontro col signore eccetera no ecco le anime affidate vanno condotte a dio ecco quindi non ha mancato in passato non manca anche oggi è un periodo difficile va bene sì lo è ma io dico sempre alle persone che chiamano dice dio non abbandona i suoi figli chi cerca la verità la trova anche oggi e ce ne sono tanti che ancora la predicano bene magari forse forse sono una minoranza in relazione alla maggioranza ai posteri l'ardua sentenza ma ci sono e forse non ti stanno sotto casa è però guarda anche l'altra faccia della medaglia perché molti di ottimi predicatori sono sono attivi come me più di me forno non so sicuramente sono attivi sul web non è difficile trovarle le loro cose e quindi dice forse non ce l'hai sotto casa ma è ancora più comodo perché ce l'hai come vuoi dove vuoi quando vuoi basta che c'è uno smartphone basta che c'è un pc basta che c'è in tablet te lo senti dove come quando ti pare e se ti piace la faccia te lo pure vedi non serve però se ti piace personalmente ho sempre cercato di nella mia attività apostolica ho sempre cercato di fornire una vastissima gamma di possibilità fateci caso ci sono questi cicli di catechesi una catechesi dura un'ora però sono anche le omelie feriali cinque minuti sei minuti sono molto short no una media festiva 12 minuti una meditazione l'ora santa 15 minuti quindi in modo tale che uno ci abbia poi preferisci l'ascolto ci stanno i podcast ai podcast uno si abbona e l'episodio nuovo mano a mano che si aggiorna su qualunque piattaforma e ce ne sono tante io sto almeno 10 15 piattaforme appena c'è un episodio nuovo ti si carica sullo smartphone ti metti gli auricolari e te lo senti tutto come quando vuoi anche per quanto riguarda lo scrivere adesso sto sto curando che mi stanno mi hanno chiesto queste pubblicazioni cartacee stanno facendo impazzire però molto molto volentieri perché quelle digitali ti fanno impazziti meno perché la pubblicazione digitale sapete com'è no io l'ho fatta adesso che ho pubblicato il nuovo libro che è facilissimo perché tu una versione digitale l'aggiorni se c'è qualche errore che ti è sfuggito e magari te lo vai a rileggere magari un refuso è che ci vuole aggiorni il file lo carichi però una cosa che stampi una volta che stampata è stampata non è che che il file stampato quindi ci vuole una un'attenzione moltiplicata però per esempio ho sempre curato per chi non lo sapesse l'edizione di piccoli articoletti cioè il blog il mio blog non parla di io non ho mai amato entrare in dispute in cose faccende di attualità c'è sta già una marea di gente che fa queste cose io preferisco cioè ho sempre avvertito l'importanza di fare un compito di formazione di coscienza di portare le persone al signore d'accordo poi problemi contingenti certo si affrontano e si cercano di risolvere qui stanno gli articoletti che sono piccolini e poi invece se tu gli articoletti li come dire li li raduni dentro un argomento ci tiri fuori un libro perché c'è chi preferisce il libro chi c'ha voglia di direggersi un intero argomento la comunicazione variata ora perché la fede nasce dall ascoltare e dio provvede a tutti e non solo a tutti secondo le necessità di tutti terzo paragrafo l'intervento di cristo degli apostoli e dei loro successori dio però avendo promesso un maestro di giustizia per illuminare le genti citazione di gioele 2 23 e che avrebbe portato la sua salvezza fino agli estremi confini della terra citazione di isaia negli ultimi tempi ha parlato a noi nella persona del figlio citazione della lettera agli ebrei e ha comandato con una voce venuta dal cielo nella gloriosa trasfigurazione 2 pietro 1 17 che tutti obbediscano ai suoi comandi questi è il figlio mio l'ha letto ascoltate lo quindi dio vuole che si dia ascolta suo figlio l'ha detto questo è il figlio mio l'ha letto ascoltate lo ieri oggi e sempre e quindi vuole quindi dio che tutti obbediscano ai suoi comandi tutti il vangelo va portato a tutti non va imposta nessuno ma va portato a tutti tutti hanno il diritto di ascoltarlo la chiesa è debitrice verso ogni essere umano noi non siamo nessuno per poter dire a quello no c'è la sua religione lascialo perde no c'è la sua religione la sua religione deve essere rispettata ma gli devo dire guarda che tu c'è una bellissima religione anche se però è imperfetta sicuramente incompleta o a mischiare a tanti errori tu devi sapere che dio ha mandato suo figlio nel mondo io te lo dico tu ci puoi credere o non ciò o puoi non crederci per portarci alla pienezza della verità guidarci la verità tutta intera tutte le cose belle della tua religione le troverai tutte nel cristianesimo tutte quante sfrondate però da ogni errore e con la pienezza della verità io te lo dico poi se vuoi rimanetti nella tua religione statene pure insomma cioè non nessuno ti farà violenza a cose di questo genere ma tu c'hai il diritto di sapere questa cosa dalla chiesa e chiaramente tutti gli uomini di chiesa tutti i ministri della chiesa hanno il dovere di adempiere questo ministero infatti qui proseguo la lettura a sua volta il figlio destinò alcuni ad essere apostoli altri costituì pastori e dottori perché annunciassero la parola di vita per evitare che noi fossimo sballottati da ogni vento di dottrina citazione della lettera di san paolo a timorio ben fermi invece sul fondamento della fede fossimo accompagnati nell'edificio di dio per opera dello spirito santo ma sentite che bello si ha l'impressione che questa sia roba così arcaica vedete che io l'ho fatta apposta la voce della chiesa è una non cambia quando è la voce della chiesa con la c maiuscola accoglienza per la parola dei pastori della chiesa quarto paragrafo per evitare poi che qualcuno ricevesse la parola di dio da ministri della chiesa come parola umana che non è parola ma bensì l'accogliesse qual è realmente come parola di cristo il nostro salvatore medesimo stabili di conferire al loro magistero dei pastori tanta autorità da affermare luca 10 16 chi ascolta voi ascolta me e chi disprezza voi disprezza me e questo non intese riferirlo sole presenti a cui si rivolgeva ma a tutti quelli che per legittima successione avrebbero ricevuto l'ufficio di insegnare perché promisi di assisterli fino alla fine del mondo stupendo no o necessità della loro predicazione a nostri giorni questa predicazione della parola di dio pur non dovendosi mai interrompere nella chiesa certamente deve essere promossa con più impegni e pietà ai nostri giorni affinché i fedeli vengano nutri e confortati dal pascolo vitale di un insegnamento sentite sano e incorrotto lo volete spero no quanta gente mi chiede queste cose infatti oggi sono sorti nel mondo dei falsi profeti allora era tutto il mondo della riforma protestante di cui il signore aveva detto non li mandavo come profeti ed essi correvano non parlavo loro ed essi profetavano geremia 23 21 per pervertire gli animi dei cristiani con dottrine varie peregrine e la loro impietà addestrata tutte le arti di satana sembra che non trovi più limiti e se non ci potessimo appoggiare alla stupenda promessa del salvatore il quale affermò di aver dato alla sua chiesa un fondamento così solido che le porte dell'inferno non avrebbero mai potuto prevalere contro di essa ci sarebbe da temere che i nostri giorni la chiesa assediata da ogni parte assalita e combattuta da tante macchinazioni fosse sul punto di crollare amici sarà un'impressione mia o forse certe considerazioni conservano una certa attualità oggi non ci stanno più protestanti ma oggi ho stato di assedio c'è e soprattutto dottrine varie peregrine stravolgimenti varie e ci sono per tacere di intere nobilissime province rileggo riprendo la lettura che un tempo erano attaccate con pietà e santità alla vera e cattolica religione ricevuta dai loro maggiori mentre adesso abbandonata la retta via affermano di praticare in modo eccellente la pietà allontanandosi totalmente dalla dottrina dei loro padri non esiste una regione così remota né un luogo così ben custodito né un angolo del mondo cristiano dove tale peste non abbia tentato di infiltrarsi mio parere personalissimo allora c'era il protestantesimo oggi che c'è oggi il modernismo il modernismo ciò che sta come dire da ormai un secolo bombardando è il modernismo l'insegna successore di san pio quinto san pio decimo ci mise un paravento quindi lo fermò per qualche tempo ma non è riuscito a stroncarlo perché è rigermogliato più furbo e più intelligente di prima e ha fatto il finimondo e non è ancora finita allora i catechismi degli eretici coloro che poi si sono proposti di pervertire le menti dei fedeli avendo capito che in nessun modo era possibile raggiungere tutti con la parola viva quindi con la predicazione orale perché non c'era internet per infondere nelle orecchie i loro discorsi avvelenati tentarono di riuscire a spargere gli errori dell'impietà con un altro mezzo infatti oltre ai grossi volumi con i quali hanno tentato di scalzare la fede cattolica e da cui forse non è difficile guardarsi perché contengono apertamente l'esia hanno anche scritto un numero quasi infinito di libretti che con un'apparenza di pietà sono in grado di ingannare in modo incredibilmente facile degli animi incauti dei semplici oggi fanno un lavoro del genere per esempio i testimoni di geova ormai da da un sacco di tempo e di incauti in giro ce ne sono tanti quindi il proposito catechistico del concilio tridentino mossi da tale stato di cose i padri del concilio ecumenico tridentino con il vivo desiderio di adottare qualche rimedio salutare per un male così grave pernicioso non si limitarono a chiarire con le loro definizioni i punti principali della dottrina cattolica contro tutte le resi dei nostri tempi ma decretarono anche di proporre una certa formula e un determinato metodo per istruire il popolo cristiano nei rudimenti della fede da adottare in tutte le chiese da parte di coloro che ispetta l'ufficio di legittimi pastori e insegnanti sapete che il concilio di trento ha enormemente responsabilizzato a riguardo i parroci proprio parroci a cui anche questa credo che sia una cosa che ce la siamo un po dimenticata spetta primariamente il compito dell'insegnamento catechistico anche i fanciulli una volta penso che tutti lo sanno ricorderanno il catechismo è bambini ma lo faceva il parroco io non è che sto dicendo che ho voglia di lavorare di più per carità però io personalmente ricordo quello che ci raccomandava monsignor petrocchi il vescovo che mi ha ordinato fin da quando eravamo giovani preti lui ha sempre raccomandato ai sacerdoti giovani meno giovani non dico fatelo soltanto voi ci stanno oggi catechisti le catechiste per carità ma fatelo anche voi magari prendete quei gruppi di ragazzi specialmente quelli che si trovano a ridosso della crisi ma io così fece a borgosa michele fate ristare con voi in modo tale che li aiutate poi a proseguire il cammino dopo il catechismo si fatica tanto io questo lo posso dire per esperienza una fatica non indifferente ero più giovane allora si raccolgono le solite percentuali c'è su un gruppo di 20 ragazzi tu ne raccogli 3 4 l'anno però se ci resti 10 anni poi ne lasci 30 40 e così è stato sputando sangue però così è stato quindi bisogna farlo quindi raccomando se ci fosse qualche confratello ecco che ascolta queste cose è importante per comunque la figura del sacerdote è sempre il sacerdote c'è differenza quando parla il sacerdote da quando parla può essere anche il laico più preparato del mondo come adesso sta cosa che dentro le case dei malati ci vanno i ministri straordinari la legge della chiesa questa cosa la consente però non è possibile che un parroco non si faccia vedere mai e deleghi in toto questa cosa anche perché le persone non si possono confessare non possono ricevere l'olio santo se c'erano bisogno perché un laico può per l'attuale legge della chiesa soltanto portargli la santa comunione ma il diritto cronico continua a dire che però questo è un compito che aspetta al parroco quindi che non può essere delegato in toto e quindi poi completamente disatteso analogo discorso secondo me andrebbe fatto per il cadevismo non dico necessariamente di farlo solo tu ci sono parrocchi dove ci sono mille ragazzini sarebbe impossibile adesso però qualcosa sì il catechismo voluto dal concilio e quelli già esistenti è vero che non pochi si sono già distinti per Pietà e Torchino in questo genere di componimenti tuttavia i padri conciliari ritennero che sarebbe stata della massima importanza la pubblicazione di un libro munito dell'autorità del concilio dal quale i parroci e tutti gli altri cui aspetta il compito di insegnare capite che un parroco aspetta il compito di insegnare potessero anche un parroco anche un povero prete che però sia parroco potessero attingere e divulgare norme sicure per l'edificazione dei fedeli così che come uno è il signore unica la fede così fosse unica la regola comune nel trasmettere la fede e nel insegnare al popolo cristiano i doveri della pietà o tenete presente a scanso di obbedie di equivoci io ho parlato anche del catechismo della chiesa cattolica perché anzi la prima cosa che ho affrontato è stato il catechismo della chiesa cattolica sia per esempio negli incontri di catechismo per adulti dove ho sempre usato il catechismo della chiesa cattolica sia per esempio quando uno se uno riprende il ciclo di catechesi la sana dottrina cattolica dove ho rivisitato ho rielaborato i sette sacramenti dieci comandamenti io ho seguito il catechismo della chiesa cattolica del 1992 ritengo importante ed è importante ed è importante per il catechismo della chiesa cattolica del 1992 pur essendo rivisitato e riaggiornato però l'aria che si respira se uno va a fondo è sempre la stessa c'è una prospettiva differente c'è uno stile differente c'è una maggiori c'è un catechismo un tomo così tant'è vero che ratzinger poi ci prese il compendio per cercare di ecco un pochino è un po molto 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 elaborato ecco perché fondamentalmente quando si tratta di un catechismo della chiesa la regola della fede deve rimanere sempre la stessa limiti del nostro catechismo essendo però assai numerose le cose riguardanti la professione della religione cristiana nessuno pensi che il concilio si sia proposto di comprendere di spiegare appieno in un solo libro tutti i dogmi della fede cristiana cosa che sono soliti fare coloro i quali insegnano l'origine e la dottrina di tutta la religione questa infatti sarebbe stata un'impresa lunghissima e poco adatta allo scopo suddetto ma volendo istruire parroci e sacerdoti in cura d'anime si è pensato di limitare l'esposizione alla conoscenza di quelle cose che sono maggiormente necessarie al compito pastorale e più proporzionate alla comprensione dei fedeli ecco l'intento pastorale no cioè non serve che io ti faccio un testo dove ci sia tutto lo scibile teologico nel dettaglio di tutte le branche della teologia chiaramente saranno più o meno affrontare trasversalmente tutte ma mi concentrerò su quei contenuti che sono da assimilare a chi ha il compito di predicarli ai fedeli e quindi ad utilità dei fedeli perciò vengono proposti qui soltanto quei punti di dottrina che possono invitare allo zero la pietà dei pastori non troppo versati nelle dispute teologiche l'intento pastorale è fondamentale per un pastore per esempio le pubblicazioni che adesso chi chiama il cartaceo vedrà non sono le mie non sono pubblicazioni scientifiche certo sto rivedendo alcune cose un minimo di metodologia cerco di osservarla ma non si troveranno cioè citazioni dotte prima perché non avrei neanche il tempo di andare a fare una roba del genere io l'ho fatto ho preso il dottorato quindi so farla una cosa del genere altrimenti non puoi prendere un dottorato ma ma che cioè l'intento che io non è andare a fare una opera accademica cioè quindi entrare nel dibattito teologico e a me questo non interessa il mondo accademico non mi è mai interessato a me quello che interessa è sempre stato così io sono diventato per questo motivo cioè è aiutare le persone se ritengono sia qualcosa di utile bene comunque il mio intento era quello quindi uno stile possibilmente scorrevole leggero non pieno di 100.000 citazioni che non sono adatte a un sì si chiamano testi divulgativi leggeri anche se a volte l'argomento è un pochino impegnativo ma lo scopo è proprio la formazione cristiana delle cattolica ovviamente cristiana cattolica intendo ovviamente delle persone questo intento pastorale che la chiesa sempre è come dire sottolineato specialmente per chi è in cura d'anime e siccome per grazia di dio non ho fatto nient'altro che questo e ne sono stra felice non ho avuto mai incarichi ecclesiali compiti uffici io ero terrorizzato da queste cose dico mica mi metteranno io una scrivania perché se te lo dovessero chiedere se ti chiamano un vaticano dentro qualche congregazione a stare dentro a fare ufficiale dentro di la scrivania io ti ho detto al signore speriamo che non accada mai fino adesso grazie a dio non è mai accaduto e quindi ho potuto dedicarmi proprio a come dire a provare poi se sei riuscito non lo so a fare il pastore ora ancora principi orientativi oggi finiamo con la prefazione non ce la faccio ce la dovremmo fare sto vedendo il tempo si ce la dovremmo fare principi orientativi fondamentali dell'azione pastorale stando così le cose prima di esporre i singoli trattati che ricapitolano questa dottrina lo scopo fissato esige l'illustrazione di quei pochi fondamentali principi che i pastori d'animi devono sempre considerare e tenere principalmente presenti quanto vorrei che i miei confratelli gli dessero un'occhiata a queste cose probabilmente le conoscono ma sentite affinché dunque i pastori d'anime indirizzino tutte le loro deliberazioni fatiche industrie al debito fine e possano conseguirla qual è il debito fine la gloria di dio e la salvezza delle anime la prima cosa da ricordare sempre è la seguente che tutta la scienza del cristiano si ricapitola in quel programma stabilito dalle parole del salvatore giovanni capitolo 17 versetto 32 punti e virgolette questa è la vita eterna che conosca notte l'unico vero dio e colui che ha mandato Gesù Cristo conoscerli dio ci ha creato per conoscerlo come prima cosa conoscere dio e conoscere Gesù è la cosa più importante che esiste sul pianeta terra è il tempo meglio speso riprendo perciò l'impegno principale di quanti insegnano nella chiesa sarà quello di suscitare nei fedeli il desiderio di conoscere Gesù Cristo e questi crocifisso prima corinzi 2 2 e far sì che si persuadano bene credano con intima pietà e devozione che non è dato agli uomini altro nome sotto il cielo nel quale sia possibile salvarsi atti 4 12 vedete come ancora nel 1500 questo questo modo di parlare scusate se interrompo era proprio oggi san giovanni crisostomo gongolerebbe perché i padri della chiesa facevano le loro prediche a colpi di citazione della saga scrittura qui è un continuo ha iniziato con giovanni 17 3 povero Cristo è Cristo crocifisso prima corinzi 2 2 non è dato agli uomini altro nome sotto il cielo nel quale sia possibile salvarsi atti 4 12 e concluda dicendo essendo egli la vittima di propiziazione per i nostri peccati prima giovanni 2 2 ha fatto un periodo di citazioni della sacra pagina ovviamente coordinati in un discorso logico siccome però noi possiamo sapere di conoscere dal fatto che non serviamo i comandamenti primo giovanni 2 3 ancora è strettamente legato al principio suddetto che si insegni ai fedeli a trascorrere la propria vita non già nell'ozio e nell'ignavia che anzi noi dobbiamo camminare come lui ha camminato primo giovanni 2 6 ed esercitarsi con ed esercitarsi con impegno nella giustizia nella pietà nella fede la carità e nella mansuetudine infatti nuova citazione tito 2 14 egli offrì se stesso per noi per redimerci da ogni iniquità e per rendere il suo popolo mondo puro cioè è applicato alle opere buone opere che l'apostolo comanda i pastori di illustrare raccomandare quindi ma storia che devono far conoscere gesù e farlo amare uno secondo far conoscere i comandamenti di dio e farli mettere in pratica vedete come è strutturato il catechismo no fede comandamenti ma d'altra parte avendo il signore salvatore nostro affermato e dimostrato con il suo stesso esempio che tutta la legge tutti i profeti si riducono alla carità e avendo poi l'apostolo 22 matteo 22 40 qui è la disputa con conduttore della legge e avendo poi l'apostolo confermato che la carità è il fine dei precetti della pienezza della legge romani 13 10 nessuno può dubitare che l'intento principale da perseguire con ogni dirigenza sentite sia quello di sollecitare il popolo dei credenti ad amare l'immensa bontà di dio verso di noi capite cosa intende per carità matteo 22 40 quando gli chiedono quale è il comandamento più importante amerà il signore dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tonica con tutta la tua mente tutte le tue forze un pastore deve fare anzitutto questo prima l'amore di dio nessuno quindi può dubitare che l'intento principale sia quello di sollecitare il popolo dei credenti ad amare l'immensa bontà di dio così che infervorato da un ardore divino le persone che ascoltano un pastore devono infervorarsi di un ardore divino se non non serve a niente quello che quello che sta predicando il pastore venga rapito da quel bene perfettissimo aderendo al quale potrà godere la vera felicità di colui che sarà in grado di ripetere con il profeta che cosa vi è in cielo per me e all'infuori di te che cosa io bramo sulla terra capite amare dio la felicità già qui fuori di te cosa bramo sulla terra questo è un salmo 72 25 in realtà è questa la via sublime la via più sublime che l'apostolo aditava quando indirizzava tutta la somma della sua dottrina del suo insegnamento alla carità la quale non verrà mai meno in tal modo qualunque cosa venga composta da credere da sperare o da compiere in essa deve essere sempre la comandata raccomandata la carità del signore nostro così che ognuno capisca che tutte le opere della perfetta virtù cristiana non hanno altra origine e non altro hanno altro scopo all'infuori di quest'amore soprannaturale tu devi imparare a fare tutte quante le cose per l'amore di dio tutto quello che fai ma avete sentito che è bello quando dicono che stai a fa adesso a sto cucinando stai cucinando lo stai cucinando stai amando dio non stai cucinando perché tutto quello che noi fa tutto quello che fate in parole opere qui ce la metto io una citazione di di san paolo tutto si compie nel nome del signore gesù rendendo per mezzo di lui grazie a dio padre questo devono fare i pastori non andare a far prediche su altri argomenti che lasciamoli fare ai laici o ai laicisti questo devono fare i pastori non lo dico io è non lo dico io e questa non è sapienza obsoleta questa non è roba da da mettere nel dimenticatoio è no l'obbligo di adattarsi alla capacità di ciascuno altro paragrafo se poi è vero che nell'impartire qualsiasi insegnamento a grande importanza la maniera di insegnare questo è da ritenere addirittura grandissima nell'istruire il popolo cristiano bisogna essere capaci di insegnare parlare un linguaggio adatto agli ascoltatori semplice diretto immediato chiaro va infatti tenuto conto dell'età dell'intelligenza delle abitudini e della condizione degli ascoltatori in modo tale che l'insegnante si faccia tutto a tutti per guadagnare tutti a cristo e rendendosi ministro dispensatore fedele sia degno quale servo buono e fedele di ricevere dal signore autorità su molto egli deve persuadersi che a lui sono affidati non soltanto uomini di una data categoria da istruire su particolari norme e con una determinata formula ma che egli deve formare la vita a tutti i fedeli e siccome alcuni di essi sono come bambini appena nati altri cominciano a crescere in cristo mentre ce ne sono di quelli che hanno raggiunto la tammatura è necessario considerare con dirigenza chi ha bisogno del latte e chi del cibo solido per offrire a ciascuno quell'alimento di dottrina che assicuri la crescita spirituale fino a che arriviamo tutti citazione di efesini 4 13 all'unità della fede e della conoscenza del frio di dio allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di cristo l'apostolo indicò tale dovere a tutti coloro che sono chiamati a questo ministero dichiarando se stesso debitore dei greci dei barbari dei sapienti e degli ignoranti è chiaro che se si sta in un consesso di persone dotte si deve parlare in maniera adeguata a quel consesso se si sta in un consesso di persone semplici o ignoranti tu devi adattarti a quel consesso quindi l'apostolo dichiarava questo per far comprendere che nell'esporre i misteri della fede i precetti della vita bisogna adattare l'insegnamento alla comprensione e all'intelligenza degli ascoltatori affinché nel fornire di cibo spirituale quelli che sono più preparati non si lasciano morire di fami piccoli che inutilmente credono il pane perché così perché non c'è chi possa loro spezzarlo anche qui lamentazioni 4 4 nessuno poi deve trascurare l'insegnamento per il fatto che talora bisogna istruire gli ascoltatori su dei precetti che sembrano meno importanti e che per lo più vengono trattati non senza molestia da coloro che si occupano e si delizzino di argomenti più sublime se infatti l'eterna savienza del padre discese sulla terra per trasmetterci i precetti dell'eterna vita nell'umiltà della nostra carne chi sarà quello che non si sentirà costretto dalla carità di cristo a diventare bambino in mezzo ai suoi fratelli e simile a una nutrice che al latte i suoi figlioli non bramerà la salvezza del prossimo con tale ardore da dare per essi come scriveva di se stesso l'apostolo non solo il vangelo ma anche la propria vita la dottrina della fede è racchiusa nella scrittura nella tradizione nonché nel credo nei sacramenti nel decalogo e nell'orazione domenicale questo paragrafo penultimo è della prefazione ogni sorta di dottrina che deve essere insegnata fedele contenuta nella parola di dio distribuita nella saga scrittura e nella tradizione perciò i pastori di anime si esercitano giorno e notte nella meditazione di queste due cose ricordando l'ammonimento di san paolo a timotio dedicati alla lettura all'esortazione all'insegnamento tutta la scrittura infatti ispirata da dio è utile per insegnare convincere correggere formare la giustizia perché l'uomo di dio sia completo e preparato per ogni opera buona anche questo è un aspetto fondamentalissimo cioè per parlare di dio tu devi essere ripieno di dio tu per poter predicare la la sagra scrittura devi conoscere la di aver letta meditata più e più volte padroneggiarla data però la molteplicità e la varietà delle verità così trasmesse al punto che risulta difficile comprenderle e una volta comprese non è facile ricordarle in modo da averle pronte quando capita l'occasione di insegnarle con grande saggezza i nostri maggiori ricapitolarono tutto il succo di questa dottrina salutare in quattro formule distinte che sono ecco il cadevismo il simbolo apostolico i sette sacramenti il decalogo e l'orazione domenicale o padre nostro questa struttura è rimasta in tutti i catechismi è nel catechismo ovviamente della chiesa cattolica e rimane tale perché realizza una sintesi infatti tutto quello che a norma della fede cristiana si deve ritenere conoscere su dio sulla creazione al governo del mondo sulla redenzione del genere umano sulla ricompensa dei buoni e sulla punizione dei malvagi è contenuto nell'insegnamento del simbolo simbolo significa il credo simbolo della fede quelli che costituiscono i segni gli strumenti per procurarci la divina grazia sono racchiusi nell'insegnamento relativo ai sette sacramenti quanto poi si riferisce alle leggi cui fino alla carità si trova descritto nel decalogo finalmente tutto quello che gli uomini possono salutarmente desiderare sperare e chiedere è racchiuso nella preghiera del signore ecco perché spiegando queste quattro formule che costituiscono come punti comuni di riferimento della saga scrittura non rimane quasi più niente da insegnare circa le cose che il cristiano è tenuto a imparare e desiderare infine suggerimenti e parloci per unire alla spiegazione del vangelo quella del catechismo riteniamo quindi opportuno avvertire parloci che ogni qual volta si sono chiamati a spiegare un passo del vangelo e qualsiasi brano della saga scrittura la materia di quel testo qualunque esso sia ricade sotto una delle quattro formule riassuntive suddette e a quella essi dovranno ricorrere per trovarvi la fonte della spiegazione richiesta nel caso per esempio che si debba spiegare il vangelo della prima domenica d'avvento ci saranno segni nel sol nella luna questo si riferì quanto si riferisce a tal argomento si troverà in cui l'articolo del simbolo verrà a giudicare i vivi e morti e così valendosi della spiegazione dell'articolo il pastore dani insegnerà insieme il credo e il vangelo perciò in ogni suo impegno di insegnamento di interpretazione prenderà l'abitudine di riferire ogni cosa a quei quattro genere di argomenti ai quali fanno capo come abbiamo detto tutti gli sforzi gli insegnamenti della saga scrittura nell'insegnare poi ognuno terrà quell'ordine che sembrerà più adatto alle condizioni della persona del tempo noi però seguendo l'autorità dei santi padri che nell'iniziazione cristiana dei neofiti cominciavano dalla dottrina della fede abbiamo giudicato opportuno mettere al primo posto quanto si riferisce alla fede ecco qui questa è soltanto la prefazione perché poi la parte prima verterà come detto sulla fede il suo simbolo poi il discorso sui sacramenti poi il discorso sui comandamenti e poi il discorso sul padre nostro come in ogni catechismo ecco ci lasciamo così base all'impressione che si è avuto da questa prima da questo primo impatto con lo stile del catechismo romano tridentino di san pio quinto agli ascoltatori decidere se proseguire nell'ascolto o fermarsi qui intanto come sempre concludo permettendomi di dare la mia benedizione a tutti che dio vi benedica e la santa vergine immacolata e benedetta oggi sempre ovunque vi protegga